Proposte per la creazione di un hub del contemporaneo, l'associazione Vivo a Napoli ha promosso un incontro che rappresenta la prima importante occasione di confronto col comune sul ruolo che il Museo delle Arte di Napoli può svolgere per creare un sistema dell'arte contemporanea e per divenire luogo di crescita della comunità e dei suoi artisti. Ovunque noi stiamo andando riusciamo, diciamo così, non soltanto a percepire ma anche a renderci conto di quanta energia, quanto talento, quanta creatività c'è nella città. Il punto è, diciamo così, uso un'espressione un po' obsoleta ma non me ne vengono in mente altre, bisogna mettere a sistema. Intanto anche in questo weekend ci saranno speciali occasioni per visitare lo splendido Museo e Real Bosco di Capodimonte. In occasione della Settimana della Memoria il Museo, in collaborazione con Le Nuvole, propone una visita guidata per ammirare tutte quelle opere che in epoca fascista, durante la Seconda Guerra Mondiale, furono trafugate dai nazisti. Quelle più importanti, il ritratto di Fanciulla di Tiziano, la Danae di Tiziano, la Madonna del Divino Amore di Raffaello, il San Gironomo nello studio di Colantonio, il Giovanni Bellini con la sua trasfigurazione. Quindi sono opere che purtroppo per una serie di motivi uscirono dal Museo di Capodimonte e per fortuna, grazie all'operato di tante persone e soprattutto ricordiamo anche Rodolfo Sivieri che ha permesso appunto il recupero di opere importantissime come la Danae, sono ritornate a splendere all'interno delle sale.